Con il calcio d'inizio dato dal sindaco Simone Calamà insieme al presidente della provincia Francesco Pugelli, stamani si è giocata la prima partita sul campo di calcetto di via Puccini a Oste, completamente rinnovato dopo anni di abbandono grazie alla positiva sinergia che si è creata tra il comune di Montemurlo e il circolo Arci, nuova Europa di Oste che ha eseguito gli interventi di sistemazione. Qui è una riqualificazione significativa di uno spazio a verde che negli ultimi anni era stato un po' abbandonato e che sembrava giusto recuperare all'utilizzo di tutti, in particolar modo dei più giovani, dei ragazzi che in questo luogo recuperato al campo di calcio potranno venire a svagarsi, a giocare con tranquillità e quindi avere un nuovo spazio, un nuovo luogo dove poter stare insieme. L'intervento come detto è stato realizzato dal circolo Nuova Europa in seguito all'accordo firmato con il comune per la gestione dello spazio. Il circolo si è impegnato a risistemare la rete di recensione, le reti parapalloni, a rimettere le porte da calcio, a realizzare un nuovo cancello pedonale e a livellare il terreno del campo da gioco per renderlo nuovamente fruibile a tutta la cittadinanza. Grazie al circolo Nuova Europa sarà gestita, quindi sarà possibile poter prenotare le chiavi e poterne prenotare l'utilizzo rivolgendosi proprio al circolo che si trova in Piazza Mendola. Il campetto di via Puccini ha le dimensioni regolamentari per il calcio a 5 e quindi potrà essere richiesto per effettuare anche partite di squadre amatoriali, ma sarà anche utilizzabile per il gioco libero. Il comune di Montemurlo inoltre per completare l'intervento dell'area ha effettuato la sistemazione dei marciapiedi intorno alla struttura sportiva. Per gli interventi di ripristino il comune ha riconosciuto al circolo un contributo di 6.000 euro. Noi avevamo questo pezzo di terreno che era diventato ormai, si può dire cosa, però ora riqualificandolo e rimettendolo a campino dal calcetto vediamo che i nostri ragazzi almeno invece di giocare nelle piazze così verranno a giocare in questo campo e abbiamo fatto una bella riqualificazione.